Benvenuti in questo primo video su YouTube, primo video ufficiale, diciamo, ossia un video fatto proprio per YouTube. Primo video in questo canale, non molto seguito, ma vabbè, insomma, tentiamo di farlo crescere un po'. Oggi risponderemo agli haters, quelle persone che non hanno tanto da fare nella loro vita e quindi vanno sotto ai video altrui a commentare e offendere. Prima di iniziare con i vari commenti offensivi che mi sono arrivati, vi ricordo che se volete potete iscrivervi a questo canale. Fatemi un po' contento, fatemi sentire apprezzato, dato che tra l'altro adesso andremo a leggere solo offese. E niente, attivate anche la campanellina, vedete qui? Iscriviti qui in basso. Se volete potete cliccare lì e iscrivervi. Detto questo, vai con la sigla! Sigla? Sigla io non ce l'ho, però, perché non mi conosce neanche mia mamma, neanche mio papà. Beh, insomma, vabbè, loro sì, in realtà. Beh, vabbè, insomma, dai. Iniziamo subito con i commenti. Senza scrivere nome e cognome, queste persone le chiameremo costui. Quindi, iniziamo con Ma che belli gli anni 90! Chi questi idioti non potevano esprimersi? Allora, non ho capito che belli gli anni 90, chi questi idioti non potevano esprimersi? C'è un po' di problema grammaticale in questo commento. Ma se notate, nei commenti di quasi tutte le persone che sono un po' offensive, C'è qualche problema grammaticale, appunto. Quindi, evidentemente, è una caratteristica l'essere un po' indietro di cottura. Eh, comunque, bellissimi gli anni 90, fratello. Effettivamente sono bellissimi. Sicuramente meglio di quelli dove stiamo vivendo adesso. Però, allo stesso tempo, vabbè. Adesso siamo nel 2024, bisogna che ti rassegni a questo e al fatto che Idioti con la mia faccia possono esprimersi. Mi dispiace. Continuiamo con Bevi di meno che ti stai rincoionendo. Porca miseria ladra. Porca miseria ladra proprio mi fa capire che sei una persona cattiva con i controcogli... Ok, però, per tua sfortuna, bevo qualcosa, ma non sono un alcolizzato, nonostante uno possa pensarlo, ma comunque mi sa che quello un pochino più rincoglionito sei tu. Andiamo avanti con quelli un pochino più cattivi. Solo al nord credere di fare ridere con ste deficienze, con ste deficienze, ma che c'è? Sai che c'è? C'è, che c'è? C'è che prende un treno che va, paradiso città. Vabbè, quella era una canzone. Di diverte il latte mi hai fatto scendere solo a sentirti parlare, ridicolo, altro che ridere, ma per favore è vita propria. Qui c'è un problema, mancano le virgole, la base, la base della base, e purtroppo, vabbè, niente, dobbiamo rassegnarci al fatto che ogni tanto ci sono delle persone che non conoscono l'esistenza di questa forma grammaticale chiamata, appunto, virgola. Solo al nord credere di far ridere. Io non ho capito. Io tanto spesso nei video che pubblico parlo in dialetto, ma non ho mai offeso le persone del sud, le persone del centro Italia, eccetera. Evidentemente non tutti sono rispettosi come me. Comunque, mi hai fatto scendere il latte, mi hai fatto scendere. Non so da dove ti sia sceso il latte, soprattutto perché sei un uomo e non penso che tu possa essere in post-gravidanza. Ma comunque non importa. Grazie anche a te. Penultimo commento. Penultimo. Pensare che c'è gente che fanno video del genere? Ecco perché l'Italia va in malora. In più è Veneto. Tutto un dire. Pensare che c'è gente che fanno video del genere? Anche qui l'italiano è andato a farsi... a farsi... finiamo lì la frase. Ecco perché l'Italia va in malora. L'Italia va in malora per ben altre cose. In particolar modo per l'ignoranza. E in particolar modo le persone che vanno sotto ai video altrui a commentare non è che... E offendere. Non è che rispecchino il massimo dell'intelligenza. In più è Veneto. Tutto un dire. Anche questo dispressa il fatto che io sono dal nord Italia. Non si sa cosa abbiate contro Veneto. Comunque sappiate che siamo persone normalissime. E per finire... Per finire questo bellissimo video. Questo che... Non si ferma un commento ma ne caccia... Cinque uno dietro l'altro. Non fai ridere buffone. E allora piangerò. Piangi e fai pena. Ok. Scusami. Il riso abbonda sulla bocca. Degli stolti. Manca nel qual caso uno voglia esporre i propri... I propri saperi sui detti. Almeno deve saperli. Fai silenzio ancora. Non so. Evidentemente tramite un commento lui ha sentito che io parlavo. O forse sente le voci nelle orecchie. Quelle che non ci sono. Ma vabbè. E poi ancora. Fai silenzio. E vabbè. Insomma. Farò silenzio. Infatti il video è praticamente finito. Questo primo video. Se volete iscrivetevi a questo canale YouTube. Attivate la campanellina. Fatemi un po' contento. Perché già adesso ho letto solo che offese. Almeno fatemi sentire un pochino più apprezzato. Vi ringrazio se volete farlo. Ci vediamo al prossimo video. Perché penso proprio che ne pubblicherò altri. E niente. Spero sia stato divertente leggere con me i certi commenti. Offensivi che mi arrivano. Ma ce ne sarebbero tanti altri. Ciao a tutti. E al prossimo video.